Siamo ora allo spazio riservato all'attualità sindacale. È stato approvato in via definitiva lo scorso 19 ottobre il disegno di legge collegato lavoro alla manovra finanziaria del 2009. Di importanza cruciale nel provvedimento sono gli articoli relativi al processo del lavoro che vogliamo commentare con Fabrizio Ghidini, segretario confederale della CGL di Parma, con delega appunto al mercato del lavoro. Intanto quali novità sostanziali introduce il provvedimento e perché la CGL lo disapprova? Le novità negative purtroppo sono tante nel provvedimento, non c'è solo la questione del lavoro ma ad esempio viene introdotto l'abbassamento dell'obbligo solasico a 15 anni che per noi è una cosa gravissima, e il bagliato. In materia di lavoro la CGL ha espresso contrarietà perché il provvedimento attraverso tanti articoli vuole limitare la possibilità del singolo lavoratore di ricorrere alla giustizia ordinaria per far valere i propri diritti. In secondo luogo cerca anche di condizionare e limitare il ruolo del giudice. Sono elementi questi che hanno fatto dire alla CGL e anche al Presidente della Repubblica che questo provvedimento ha e mantiene tuttora dei fordi carattere di incostituzionalità. Cruciali sono nel collegato lavoro, come abbiamo detto, gli articoli relativi al processo del lavoro che rendono facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolari quelli relativi all'arbitrato. In cosa consiste quest'ultimo? L'arbitrato consiste nella possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore di andare in giudizio non davanti a un giudice ma davanti a un arbitro scelto dalle parti, quindi si presume con tempi più brevi di quelli della giustizia ordinaria. La CGL non è contraria di per sé all'arbitrato, è contraria a come è stato previsto l'arbitrato da questa legge per due motivi. La prima è che l'arbitro non è sufficientemente chiaro nella legge che deve mettere il giudizio secondo quello previsto dalle norme e dai contratti. Qua c'è una formulazione non chiara, nebulosa e noi temiamo che questo possa dare la possibilità per questi abiti di disattendere le norme dei contratti nazionali e della legislazione italiana. La seconda cosa è questa, che secondo noi il lavoratore deve essere libero di scegliere l'arbitrato al momento dell'insorgere la controversia. Qua invece a molti lavoratori verrà chiesto di decidere preventivamente di ricorrere all'arbitrato e questo potrà avvenire dopo la fine del periodo di prova o dopo 30 giorni dell'assunzione, cioè in un momento di massima debolezza del lavoratore. Viene inoltre introdotta la disciplina sulla certificazione dei contratti. Cosa significa? La certificazione dei contratti è uno degli strumenti che il governo sta utilizzando per indebolire la contrattazione collettiva. Qua sempre il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare delle condizioni diverse da quelle previste dalle leggi e dai contratti. Ovviamente si tratta di condizioni peggiorative per il lavoratore. Una volta che il lavoratore sottoscriverà questo documento che certifica determinate cose, poi per lui sarà più difficile far valere i propri diritti di fronte a un giudice e in un'avvertenza. Anche per i lavoratori a tempo determinato sono previste ripercussioni. Di cosa si tratta? Si tratta di questo. Questa è una norma che pregiudica i diritti futuri dei lavoratori precari. I lavoratori precari possono essere lavoratori a tempo determinato, lavoratori stagionali, lavoratori collaboratori a progetto, lavoratori interinali. Per questi, i lavoratori viene un posto, un limite temporale molto stretto, 60 giorni, per contestare la legittimità di cessazione del rapporto di lavoro. Cosa significa? Significa che se un lavoratore assunto con un contratto a tempo determinato non viene confermato, può fare vertenza nei confronti dell'azienda entro 60 giorni. Trascorso quel termine non può più farlo. Questo automaticamente provocherà il fatto che le vertenze di questo tipo saranno ridotte praticamente a zero. L'altro elemento negativo è questo, che un lavoratore, mettiamo assunto con un contratto a progetto, che vede riconosciuto il rapporto di lavoro dipendente, non avrà più diritto all'assunzione da quel datore di lavoro, ma semplicemente avrà diritto ad un mero risarcimento economico. E questo è un passo indietro rispetto alla legislazione che in materia c'è stata per tanti anni in Italia.